I fatti risalgono al 20 agosto scorso, quando alcune scritte erano comparse sul muro adiacente a quello dell'abitazione del sindaco di Monserrato. No rotonda, non toccare. Il messaggio ermetico ed essenziale era stato lanciato e reso visibile a tutti, probabilmente riferito all'intenzione di costruire una rotonda in una porzione stradale dove ci sono delle piante. L'idea non aveva trovato d'accordo qualcuno che a nottetempo aveva deciso di tracciare la grande visibile scritta. Sono stati quindi svolti degli accertamenti, grazie anche all'esame di numerosi video provenienti dagli impianti di videosorveglianza del comune di Monserrato. I carabinieri hanno così segnalato all'autorità giudiziaria un 65enne pensionato. All'autorità giudiziaria è stata inviata una corpose documentata e informativa seppure proseguono gli accertamenti finalizzati per meglio comprendere le dinamiche che hanno originato il gesto.